Sfratti in aumento 16.000 abitazioni sfitte o vuote e la casa, che per molte famiglie rischia di diventare una chimera, serve una svolta sulle politiche abitative anche a Rimini, dove il fenomeno sta lentamente assumendo contorni rilevanti. Facciamo rete per un diverso valore d'uso della casa, dicono CGL e Cisle Will, che nella sala polivalente del complesso case popolari di Via Pascoli hanno dato vita ad un workshop per riflettere e cercare soluzioni. Rimini è una delle province italiane che ha il maggior numero di sfratti e premorosità in rapporto al numero di abitanti. Noi fino adesso abbiamo cercato di gestire al meglio l'emergenza abitativa che si presentava con gli sfratti e premorosità dovuti alla perdita di lavoro, dovuti appunto a questa situazione. Quindi secondo noi era giusto mettere attorno a un tavolo tutte le categorie e le associazioni che operano nel territorio dell'abitare per cercare di fare squadra e portare avanti delle politiche di più ampio respiro. Le politiche abitative nel nostro territorio sono state caratterizzate per tantissimi anni da un prevalente fenomeno speculativo. Non è un caso che riminizzare è una parola che è stata coniata a Rimini. Siamo passati da questa situazione abnorme ad una situazione opposta, c'è l'assoluto blocco di qualsiasi intervento edilizio. Questo ha generato nella società, in particolare negli stati più deboli, un fenomeno preoccupantissimo di insolvenza sugli affitti. La crisi ha prodotto questa situazione, dobbiamo uscirne. Per uscirne occorre costruire assieme delle proposte che siano capaci di modificare questa situazione. Anche a Rimini le percentuali di questo disagio abitativo sono forti e crescono ogni giorno, per cui noi riteniamo che ci sia un'urgenza. Il convegno di oggi rappresenta una necessità di mettere un po' tutti insieme, comune, provincia, organizzazioni sindacali, associazioni di categoria, per dare un impulso decisivo a questa questione di nuove politiche abitative.